Siamo da Firenze contro Gander della Scala, il prezzo generale è tra i tuoi minori. Siamo da Firenze contro Gander. Siamo da Firenze contro Gander. Siamo da Firenze contro Gander della Scala, il prezzo generale è tra i tuoi minori della Chiesa. Siamo da Firenze contro Gander della Scala, il prezzo generale è tra i tuoi minori della Chiesa. Siamo da Firenze contro Gander della Scala, il prezzo generale è tra i tuoi minori della Chiesa. Siamo da Firenze contro Gander della Scala, il prezzo generale è tra i tuoi minori della Chiesa. Siamo da Firenze contro Gander, il prezzo generale è tra i tuoi minori della Chiesa. Lo possiamo liberare? Ma come ho liberato? Mi sono fatto un masco tanto, ma ho liberato. Noi siamo lo violettino, diepettino. noi siamo lo violettino il detettivo